Salve a tutti e bentrovati all'appuntamento di oggi, mercoledì 2 febbraio. Alla vigilia della BCE le borse europee proseguono sulla via dei rialzi, sostenute per lo più dagli ultimi dati sull'inflazione favorevoli sopra le attese. Sul fronte nazionale il Mattarella Bis dà stabilità e rafforza piazza affari con acquisti sui bancari, come vedremo a breve. Intanto il nostro Fuzzimib si conferma migliore piazza d'Europa per la seconda seduta consecutiva. L'indice milanese si era avviato ben sopra la chiusura di ieri ed il trend è nettamente rialtista. Chiude sui massimi settimanali in area 27.400 con un progresso finale del più 0,60%. Diverso il comportamento del DAX che si avvia anch'esso sopra quota per poi ritracciare sensibilmente nel corso di seduta sui 15.600 come lo stesso livello di ieri. A Wall Street il focus è sulle trimestrali in alcuni casi deludenti. Pertanto gli indici di New York alla chiusura delle borse europee stanno viaggiando in territorio negativo con il Nasdaq a meno 0,50% circa, mentre il Dow Jones a meno 0,20%. La nota più lieta di oggi è rappresentata da Unicredit, titolo che va a ritoccare i nuovi massimi dall'agosto del 2018. Un altro titolo riesce a superare il 3% di guadagno è il caso di Amplifon che già ieri aveva messo a segno un buon rialzo così come lunedì quando era stato il migliore del Fuzzimib. Tornando a parlare di bancari, BPM si mette in luce con il suo più 2,38. Appena sopra i due punti percentuali di guadagno troviamo Interpampa. Ferrari invece supera il punto in mezzo alla luce anche dei conti 2021 e delle previsioni per il 2022. La vaglia nera odierna va a Iveco che lascia sul campo oltre il 2%. Saipen continua ad essere il centro dell'attenzione ma in senso negativo alle fortissime perdite accumulate fino a ieri infatti si aggiungono quelle di oggi. Nexi che al contrario veniva da due sedute positive oggi torna a perdere terreno. In attesa della riunione dell'OPEC plus due petroliferi come Eni e Tenaris sono anch'essi negativi. Dal mercato valutario si mantiene forte in area 1,12,9 il cross euro-dollaro che come vediamo si è mosso sempre in area favorevole. Stabigli gli incroci euro-sterline ed euro-iene che si riportano lievemente sopra alla parità. Ed ora ascoltiamo il parere del trader Pietro Di Lorenzo. Salve a tutti per le interviste di Traderlink. Ospite di oggi Pietro Di Lorenzo, trader indipendente, ideatore di SOS Trader oltre che degli eventi investing. Allora Pietro, primi giorni di febbraio, cosa sta succedendo sui mercati? Lascia a te le analisi. Sì, assolutamente. Un inizio mese positivo a differenza di quanto è successo a gennaio che è stato un mese veramente tosto per gli investitori, soprattutto americani. Dal grafico giornaliero è abbastanza evidente come l'indice Fulzimib dopo il violento ribasso che è caratterizzato assolutamente il 24 gennaio, che ha riportato i prezzi in area 25,6 e sta tentando da lì un recupero piuttosto deciso. L'idea che mi sono fatto è che gennaio è stato un po' un mese di test per i nervi anche degli investitori, soprattutto quelli che erano esposti sul mercato americano e nello specifico sui titoli tecnologici e adesso si cercherà sostanzialmente un consolidamento, un fly to quality, cioè i titoli che effettivamente sono saliti più per un effetto simpatia, per un sentiment di mercato positivo probabilmente saranno destinati a continuare a scendere, invece i titoli di qualità continueranno a dimanere nei portafogli degli investitori. Il tema sullo sfondo è evidentemente la situazione geopolitica che si fa sempre più delicata e quindi onestamente rossano investiamo in situazioni piuttosto delicate, nel senso che una notizia di un'eventuale invasione della Russia sull'Ucraina sarebbe evidentemente un evento in grado di sparigliare le carte nel giro di pochi minuti. Sullo sfondo abbiamo domani la BCE, che chiaramente adesso dopo la Fed che si è palesata nella sua idea di politica monetaria per il 2022, la parola passa alla Lagarde, che dovrà in qualche modo dare una visione di quello che sarà il futuro della politica monetaria europea. Nel frattempo le trimestrali continuano ad arrivare, abbiamo le blue chips americane che danno i risultati, per ora sembrano incoraggianti e invece per chiudere sul listino italiano siamo finalmente con un nuovo Presidente della Repubblica, che tra le altre è sempre lo stesso, ma insomma questo è un elemento che fu alcuni dubbi che c'erano sul mercato italiano, circa un'eventuale stabilità per un'eventuale elezione anticipata. Questo rischio sembra scongiurato evidentemente e questo non può che far bene al listino italiano. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per la panoramica, con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie mille a te. Grazie a Pietro Rossale e grazie a voi per averci seguito e rimanete sempre informati su tutte le news e i contenuti sul canale YouTube di Traderlink oppure su Traderlink web o sulla nostra app. Arrivederci, a domani.